Il nostro è il solito discorso, siamo un gruppo di amici, giochiamo per divertirsi, tutti ragazzi in gamba e giochiamo partita per partita, non abbiamo un obiettivo importante, quello che viene prendiamo molto buono. Le cose che abbiamo affrontato adesso, già le abbiamo affrontate con qualche amichevole e il risultato di linea di massimo è sempre stato questo. Io personalmente non li conosco, non so se i miei compagni li conoscono, però io no. Un ottimo portiere e io non sottolotirei neanche Alessio Cinciarelli, il numero 10 nostro, il nostro capitano. Un ottimo giocatore, in una categoria superiore sicuramente. Grazie Emilia Russo, alla prossima. Ciao, grazie.